Do you want to speak like a native speaker? Allora devi guardare questo video. Ciao, sono Monica di Impara, l'inglese con monica.com e nella lezione di oggi ti svelerò il significato dello slang che ho selezionato per te questa settimana. The slang of today is tar someone with the same brush. Tar someone with the same brush means to believe that someone has the same bad qualities as others in a group. L'espressione tar someone with the same brush può quindi rappresentare l'espressione italiana fare di tutta l'erba un fascio, come in questa frase. I don't think too much of that band, but the singer shouldn't be tarred with the same brush. She's got a fantastic voice. Non ho una grande idea di quella band, ma credo che non bisogna fare di tutta un'erba un fascio, soprattutto con la cantante che ha una fantastica voce. Bene, per oggi è tutto e ti aspetto la prossima settimana con un nuovo slang. E nel mentre ti invito a condividere questo video taggando una persona che vuole parlare inglese like a native speaker. A presto!